Non è che si occupi, andiamo sul tetto perché per vedere sulla madonna della ghiara che sparano. Dopo siamo andati sul tetto ma non si vedeva niente, siamo sedi, siamo andati là vicino alla torre, abbiamo trovato il campanaro, quello che sondava le campane. E dico come si fa ad andare su? Ah, gli sdè, adesso le le, e le scaltaine pian pian, e fin... E infatti siamo arrivati sul tetto, erano piazzati tra della brigata nera con la mitra lì, a 37 brede. Era una mica... E lì ho bridato fermi tutti, mani in alto, e infatti si sono alzati, quando ho visto i mitra puntati, hanno alzato le mani. No, non sparate, non ammazzate, vi indichiamo dove sono gli altri, vabbè dove sono gli altri, venite con noi che li indichiamo. erano nascosti nello stallo della luna, a Portacastello, nel sotterraneo dice che c'era un plotone, lo chiamavano loro. Erano poi una trentina. Ma poi quando siamo arrivati giù, c'è stata la sorpresa, davanti ai gradini della Madonna della Ghiara, c'era una jeep ferma, con davanti sul cofano una stella bianca grande come il cofano. Dico, ma cosa c'è? E si usò uno, l'autista, dice, il comandante vuole sapere chi sono questi tre che avete con le mani alzate. E uno di dietro, dico, sono i franchi tiratori che tiravano, che sparavano con la metraglia sul tetto. Allora, siccome il maggiore era un maggiore ufficiale, non era, non parlava l'italiano, si faceva tradurre dall'autista che parlava un po' l'italiano. Lui è sceso, quando è sceso, tirato giù il Thompson che aveva a tracolla, l'arma automatica, i tre, i tre, me li ha, una raffica di mitra me li ha messi tutti. Io ho dovuto togliere un pezzo di fegato dalla giù, perché ha sparato a buccia pelo. E dopo dico, beh, si sono arresi, sono prigionieri, dico, perché ha fatto sto affare qua? Dopo l'autista mi ha chiamato a vedere la jeep, c'era tre buchi, libero e preoccupato, perché c'erano tante cose da mettere a posto e qualcuno mancava. Non era una giornata di allegria. Fiorello per me mi è morto al fianco, ma eravamo amici anche, amici di gioventù, diciamo.